Salve, buongiorno a tutti, oggi è il... se ieri era il 6, oggi è il 7, 7 di aprile. Allora, le informazioni questa mattina sono le seguenti. Ieri sera ho iniziato a dare il programma di aprile, il programma di Whatsapp. Ho comunque il programma che io pubblico su Whatsapp nel mio gruppo. Volevo informare tutti i giocatori che se volete c'è un programma che riguarda l'eclissi, ed è non l'eclissi di quest'anno. È un programma che ho fatto tanti anni fa, l'ho tirato fuori, e l'eclissi diciamo... è un programma dell'eclissi, punto. Per chi vuole sfruttare due terzine che escono ogni mese, mi può contattare. Ancora per il momento non pubblico, vediamo magari più avanti, se si smuovono le acque. Magari più avanti, vediamo il mese prossimo. Vediamo un attimo come... perché tutto dipende da voi, no? Non è che dipenda da me. Io se pubblico le previsioni, dipende dai giocatori, da voi giocatori. Se vi iscrivete al mio canale, se non vi iscrivete, se commentate, se tenete, diciamo, vivo. Perché mi sembra di capire che voi giocatori siete anche un po'... Come si dice... Adesso non mi viene la parola. Comunque, diciamo che vi piace fare il giro delle sette chiese. Andare da uno, andare dall'altro, prendere i numeri di qua. Poi vi piace giocare tanti numeri, che tanti numeri poi in realtà non portano niente, a meno che state giocando delle cinquine o delle quaterne. Allora magari vi servono anche dieci numeri. Ma per vincere, di solito, per esempio, per vincere all'otto, potrebbero servirvi due terzine che escono ogni mese. Ho anche la ruota. La ruota di... La ruota di indicazione, ho anche quella. Allora, stamattina, niente, siamo entrati nel ciclo del sole, ieri sera. E questo è tutto. Se mi volete contattare e sapete dove trovarmi, mi trovate su WhatsApp. Raccomando a tutti voi, a tutti voi giocatori, di non fare commenti su... O di chiedere qualcosa su TikTok, perché io su TikTok, come avete visto, non faccio il lotto. E non serve nemmeno fare commenti, diciamo, di nessun genere, perché su TikTok diciamo che ci si diverte. In generale ci si diverte. Bene, questo è tutto. Io vi auguro una strepitosa giornata. Vi do l'appuntamento domani mattina. Domani cos'è? È sabato, mi pare. O no? Boh. Se ieri era giovedì, oggi è venerdì, domani è sabato. Beh, così... Eh, domani è sabato. È già sabato. Bene, questo è tutto. Appuntamento domani mattina. Ciao.